arriva giovanna patta con la modella chiara corazza assistente melis desiree che la figlia di giovanna quindi giovanna patta eccola qua con chiara corazza e desiree quando sei ok diamo ok alla base perfetto base avanti grazie vorrei essere libero libero come un uomo vorrei essere libero come un uomo come un uomo affianato che ha di fronte solamente la natura che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una bella giornata sempre libero e vitale fa l'amore come fosse un animale increscente con un uomo compiaciuto della propria libertà la libertà non è stare sopra un albero non è neanche il volo di uno suone la libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione vorrei essere libero libero come un uomo come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia è il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà la libertà non è stare sopra un albero non è neanche avere un'opinione la libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione performance della modella Chiara Corazza per l'artista Giovanni Patta